Capitolo 4 Abisso Segui il piano Mi ha detto così, sì, e io non sono stato in grado di rispondergli in nessun modo. Sono situazioni strane, situazioni nelle quali ti senti la corda attorno al collo, qualsiasi cosa tu faccia. Capito che intendo, no? Sì, fratelli, sì che capite. Se mi avete seguito fin qui, l'avete capito fin troppo bene. Le parole di Faisal Falesi erano chiare da un certo punto di vista. Dovevo avere pazienza. Dovevo fidarmi. Dovevo lasciarmi andare. Avere fede. Dovevo precipitare in un pozzo scuro e senza fondo, dritto nell'abisso. Dritto nel fottuto abisso. Ieri pomeriggio ho dormito per ore. Sono crollato in preda alla stanchezza. Quando mi sono svegliato attorno a me c'erano già le ombre della sera. E io mi sentivo ancora peggio di prima. Non ricordavo cosa, ma avevo sognato. Si era trattato di incubi? Probabile. Sarebbe stato impossibile non averne. Eppure non ricordavo niente. Ero solo. Non ricordavo nulla di cosa fosse accaduto prima che mi addormentassi. E non ricordavo se Faisal Falesia fosse con me o no. Fatto sta che a casa non c'era. Ho lanciato uno sguardo fuori. E ho visto le ombre divorare già il paese. Il mio corpo era stanco e inquieto. Dolori ovunque. I pensieri erano tanti. Ma l'unica cosa in grado di guidarmi era il desiderio di capire cosa stesse succedendo. Così, senza neanche pensarci su più di tanto, mi sono messo addosso qualcosa e sono uscito fuori. Correndo nell'oscurità. Mi sentivo minacciato. E non era solo per come il paese era diventato. Non era per gli impiccati alle pale eoliche. Per le croci tracciate sui muri. Per le persone che incontravo. Molte delle quali sanguinanti per via delle corone spinate che avevano in testa. Oh no. Non era solo quello che vedevo. Non era solo quello. Sapete che voglio dire, vero? Sapete qual era il punto, vero? Lo immaginate, no? Stavo perdendo la testa. Oh sì, ragazzi. Stavo perdendo la testa a causa di Faisal Falesia. Trascinando i piedi sono arrivato fino alla piazza. Ho guardato gli uomini di Padre Paolo pregare, inginocchiati sui vetri affilati, sorridenti e beati. Ho visto i bambini giocare attorno al patibolo e... E poi li ho notati. Da soli, sulle mura, il padre e l'uomo col cappello. Insieme. Oh sì. Segui il piano. Segui il piano, aveva detto. Li ho visti sorseggiare qualcosa, concentrati sull'orizzonte. Persino i luogotenenti che Faisal aveva portato con sé e lo stesso Luca erano rimasti alla larga. Il cielo era rosso. Nuvole scure. Da brividi, vero? È stato allora che hanno iniziato a sparare, da oltre le mura, a sparare con i mitra verso Padre Paolo e quello col cappello. Alcuni di voi erano lì, no? Ho visto Padre Paolo nascondersi dietro le protezioni del camminamento. Minacciato dalle prime schegge. E poi, subito dopo, ho visto Faisal salire sul parapetto e lanciarsi tra i colpi traccianti delle mitragliatrici. Solo e con solo le due pistole in mano. Quasi inciampando, sono corso verso la palizzata, verso le scalette, e non ero l'unico. Tutti coloro che avevano visto cosa stava accadendo si erano lanciati lassù. Gente del villaggio, soprattutto. Ma anche i ragazzi di Balzo sul lago, che avevamo portato con noi. Li capivo. Certo che li capivo, maledizione. Volevano vedere. Volevano capire. Volevano Faisal fa lesia. Lo abbiamo avuto in tutta la sua spaventosa bellezza. Col seno di poi non credo che quelli che hanno attaccato le fattorie esterne fossero predoni, sapete? Non posso dire che fossero degli uomini pagati da Padre Paolo per metterlo alla prova, e non credo che potremmo mai esserne certi, ma è un'idea suggestiva. In ogni caso, non è questo il punto. Dico, lo avete visto combattere. Lo avete visto correre a cavallo verso 40 predoni assetati di sangue, da solo, bersagliato da fucile automatici e mitra. 40 persone contro una sola, che riusciva a schivare ogni singolo colpo. Riusciva a saltare dal cavallo, seguendo il fottuto ritmo dei proiettili, come se... danzasse. L'uomo col cappello danzava con la morte. Abile. Veloce. Quasi impudente nella sicurezza che dimostrava. E ovviamente... letale. Ho visto le sue pallottole attraversare decine di nemici, senza riuscire neanche a intravedere i momenti in cui doveva fermarsi a ricaricare. Non credo che Faisal Falesi abbia trovato un modo per avere munizioni infinite per le sue pistole, certo. Ma non lo darei per scontato. A giudicare di quanti proiettili riesce a sparare direi che... Beh, è un'altra specie di mistero da svelare. Alla fine, quando la nube si è diradata, c'era soltanto lui. Lui, sul suo cavallo nero, veniva lento verso le mura di San Vito, accendendosi una sigaretta. Sul campo, cadaveri di uomini e carcasse di cavalli, bossoli di proiettili, ilmetti, cappelli, sangue. E urla dagli spalti. Tante urla dagli spalti, sì. Urla di gioia, ragazzi. Urla di gioia. Se solo tanti di quelli che gioivano avessero saputo che le prossime vittime del loro salvatore sarebbero potute essere proprio loro, e che probabilmente i predoni uccisi non erano veri predoni... Mi scappa una risata amara. Ho osservato la scena per alcuni istanti, quasi dimenticando tutto il resto, come se volessi solo farmi cullare dal pensiero che le abilità straordinarie di Faisal ci avrebbero protetti. Poi, però, sono riuscito a distogliere lo sguardo e a spostarlo su padre Paolo, appena in tempo per trovare nei suoi occhi solo una cosa. Terrore. Penso... Penso sia stato allora che padre Paolo ha preso la decisione. A neanche ventiquattro ore dal suo arrivo aveva assaggiato le abilità di quello col cappello, la sua potenza, la sua abilità. Proprio quello che voleva. Al rientro di Faisal nelle mura si è precipitato da lui, assieme a Luca e agli altri saggi, quasi inginocchiandosi di fronte al nostro eroe. Lui è smontato da cavallo, solenne e serio, come dal solito, e gli è andato incontro, ancora sporco della terra, del campo di battaglia. Passandogli accanto, potevi sentire l'odore di polvere da spara e sudore. E quando si è fermato di fronte al prete, ho pensato davvero che il momento fosse arrivato. Ma certo, aveva aspettato il momento più opportuno, quello in cui padre Paolo sarebbe stato più distratto, più debole per ucciderlo. Ma certo, il piano, ovvio, il piano. La mia illusione è durata pochi istanti. Mi è bastato vedere i suoi occhi, spenti e analitici, per capire che non era ancora il momento. O no, lo sguardo con cui guardava il prete era lo stesso che gli aveva rivolto durante le loro conversazioni. Non lo sguardo di rabbia al mulino a vento. Non quello che padre Paolo gli aveva riservato nelle prigioni. Non quello dolorante rivolto alla carcassa di Boris. E neanche quello furioso che gli aveva visto in faccia poco prima sul campo di battaglia. No, no, fratelli. Quello sguardo scaturiva dal piano. Qualcosa che andava oltre ciò che vedevo. Qualcosa che ho capito soltanto allora, osservando Pfizer-Falesia a alzare gli occhi altrove, verso Luca. Il suo era un viso spaventoso, il viso di un uovo pronto a saltare sulla preta. Tuttavia, non ho avuto il tempo di pensarci troppo. Un istante e il preta richiamava tutti all'adunanza. Già, già dall'inizio avevo capito che non era un buon segno. E lo aveva capito anche Faisal. Faisal, sull'adunanza c'è poco da dire. Sappiamo tutti cos'è successo. E ora possiamo quasi credere di conoscere il perché, giusto? Non avevo mai visto padre Paolo così inquieto, così nervoso, così spaventato. Quell'attacco era un test e quel test aveva avuto un esito negativo. Già. Per tutta la lettura della sentenza non ho fatto altro che fissare Faisal. La piazza del Patibolo era piena di persone, tutta in silenzio. con gli occhi puntati su padre Paolo e sui prigionieri. Ho guardato mia moglie, le mie figlie, la moglie di Luca e ho capito. E sapevo già cosa avrebbe detto il prete. Quando ha parlato della tortura in piazza, quando ha parlato del rogo, ho guardato Faisal 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 Falesia. Ecco, in quel momento l'ho trovato di nuovo. La rabbia era tornata, alimentata dai pianti dei bambini, dalle urla di Giuliana, da quelle di Alice e dai genitori di Luca, da quelle degli altri prigionieri. strepiti, dolore, da parte di tutti noi e quello col cappello ascoltava ogni singolo pianto e forse alimentava l'odio che si portava dentro da chissà quanto. No, non era ancora il momento. No, mettersi a sparare allora avrebbe voluto portare ad una strage. Avevamo tutta la notte prima dell'esecuzione. Una maledetta notte. E Faisal Falesia era pronto. Ora lo sapevo. Ieri sera, dopo la sentenza, abbiamo mangiato a casa mia in silenzio. Io, l'uomo col cappello e quelli di balzo sul lago. Solo pochi bocconi per riprendere le forze prima del giorno decisivo. Non c'è stato spazio per le parole. Io era a pezzi. Sentivo solo odio e paura. Per tutta la cena ho sperato che l'uomo col cappello parlasse, accennasse ad un piano o ci chiedesse un parere. Niente. È stata una misera, silenziosa, triste cena accompagnata dall'eco dei pianti e delle grida e dall'odore della cordite ancora addosso a Faisal Falesia. Ho ascoltato quel silenzio di tomba sentendo il mio stomaco chiudersi in una maledetta morsa. ho iniziato a tremare nervoso finché Faisal Falesia alla fine si è alzato ed è andato al centro del minuscolo salotto di casa nostra. Ha spostato i mobili ha fatto largo e poi ci ha raccomandato di non avvicinarci. L'ho visto afferrare dalle tasche qualcosa una candela e qualcos'altro che splendeva la fioca luce delle lampade di casa. Ho osservato i suoi gesti calmi mentre preparava il suo altare e vi appoggiava sopra la ciocca di capelli biondi. Capelli di Luca? Sì non so dove li abbia presi. Non fate quelle facce sì l'ho visto praticare una stegoneria lì davanti a noi. Già come credete che abbia reso Luca il suo cavallo di troia per portare a termine il piano? Non fate quelle facce ho detto. Sì credo che Faisal Falesia oltre che un generale e un combattente sia anche uno stregone che sappia bene come utilizzare oscure formule e come lanciare il malocchio. L'ho visto ieri sera. L'ho visto tracciare a terra misteriosi segni ed entrare nella mente di Luca.